Non parlare, perché c'è la ripresa di televideo, sta riprendendo mentre Jack lavora e sistema tutti i suoi bei cametti e i suoi telecamerini, ma deve sistemare ancora la sua bella rigida per poter trasmettere la musica, perché ogni volta cantano i video mi arrivano delle sgridate da Gesù, e lui diceva lei ha utilizzato una musica come un copyright, scusate, è mia? Poi mi ricordo che in effetti non sono mie le musiche, cioè le mie le musiche sì, a volte sì, sono di Ferro, Tullio Ferro, di Solieri, di Riva, le parole sono sempre tutte mie, di Casini, ecco però non sono più nostre e noi le abbiamo vendute, le abbiamo vendute alle case psicografici che ci hanno comprato, noi abbiamo venduto anche la nostra immagine, l'anima non la vediamo, l'anima la regaliamo. Grazie 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 Grazie